Ciao a tutti, noi siamo Yame, per fondo stasera in Magnolia, siamo insieme da un bel po' di anni, ormai sono quasi 7-8 anni insieme Io mi chiamo Marco, sono l'abastanza di Yame, Matteo, il materista di Yame e Marco, manca uno che è Peppo, che è entrato da poco I nostri contatti sono su MySpace, ci trovate www.myspace.com slash Yame iscritto A-I-M in Italia, tutto staccato, e se volete vedere il nostro video di questa sera qui a Magnolia YouKnowThisBand.com, rock'n'roll e viva ragazzi, sempre Grazie, grazie Va bene Allora, secondo voi Secondo voi Siamo più vicini Sì, venite più vicini ragazzi Facciamo tutti, capito, facciamo tutti fighi, sogniamo tutto così Siamo dei bravi ragazzi, credetici Va, però volevo farvi una domanda Secondo voi siamo bravi o cattivi? Cattivi, cattivi Va, certe volte per finire Quando vado la mattina a lavorare Incazziamo la bestia Grazie a tutti Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.